Buongiorno a tutti, sono Francesco Carbone, responsabile dei canali New Business per F-Secure. F-Secure è un'azienda che da 30 anni lavora nella cyber security, nella sicurezza informatica, e da 30 anni ha come scopo quello di rendere sicura la vita digitale dei nostri clienti. Ringraziamo naturalmente l'Italian InsurTech Association per averci invitato al Summit e vi racconterò oggi, in questa breve presentazione, come possa essere la cyber security un revenue stream interessante per il mondo insurance. F-Secure, da 30 anni appunto azienda leader nel mercato retail, nella protezione dei device e dei network dei nostri clienti, è una realtà finlandese che è cresciuta soprattutto nel mondo degli operatori telefonici. Ma da alcuni anni, visto anche l'importanza del tema cyber security per il mercato contemporaneo, direi negli ultimi anni sappiamo tutti la frequenza e l'importanza delle problematiche di attacco digitale alla nostra privacy, ai nostri dati, abbiamo ritenuto quindi, abbiamo trovato interessante crescere anche in altri canali, non solo nel mondo degli operatori telefonici, ma anche e soprattutto nel mondo bancario e assicurativo. Per quanto riguarda il mondo del cybercrime, moltissimi sono i dati e le indicazioni che avremmo potuto condividervi. È sufficiente leggere ogni giorno, direi ormai, i giornali per avere un'idea, una percezione di quanto il problema sia realmente grave. I dati sono il nuovo oro, come dice Mikko Iponen, il nostro Chief Research Officer. Di conseguenza, le modalità di attacco sono sempre più sofisticate, sempre più numerose, e infatti il numero delle persone che subisce un attacco hacker, più o meno consapevolmente, è in costante aumento. Io sono convinto che più della metà anche delle persone che stanno ascoltando questo mio intervento siano state già vittima di una frode informatica, di una data breach o di altre situazioni, diciamo, di cybercrime, come quelle che vedete elencate all'interno della slide. La conseguenza di questo è che la preoccupazione del mondo consumer, mondo al quale noi ci rivolgiamo, quindi non parliamo di business to business, ma parliamo di business to customer, è in costante crescita. E questo vale in maniera trasversale, non solo per chi, come i nativi digitali, è più portato a utilizzare o a spendere una quantità di tempo maggiore su internet, ma anche per le persone adulte o over 65, che hanno comunque ormai sviluppato una piena consapevolezza, anche per la importanza e il peso del fenomeno cybercrime, di quanto possa essere rischiosa la propria attività online. Naturalmente il mondo assicurativo, che per sua natura si occupa della protezione dai rischi che possono essere più svariati, ha iniziato a guardare con enorme attenzione al mondo della sicurezza informatica. Queste che vedete elencati nella mia slide sono i risultati di uno studio fatto da Swiss Re, sui quattro principali scenari di rischio cyber che la clientela retail percepisce come tale e che vanno, come potete vedere, dall'accesso naturalmente alle credenziali finanziarie, quindi la frode bancaria per intenderci, al furto d'identità, alla perdita o alla cattiva gestione dei dati personali che condividiamo online. A tutto questo c'è naturalmente da aggiungere il mondo della protezione dei minori, perché i nostri bambini sono naturalmente anche loro coinvolti nelle attività online, che possono essere effettivamente degli scenari molto pericolosi per numerose problematiche che purtroppo tutti conosciamo. Come può essere il mondo cyber parte dell'insurance? Come ci può essere una interconnessione tra queste due realtà? Le modalità sono numerose. Sicuramente il principio è lo stesso della protezione, per esempio, dell'RC auto. Quindi attraverso l'integrazione con un partner tecnologico, la società assicurativa che prende in carico tutti quelli che possono essere i rischi cyber ai quali i propri clienti sono esposti, questi rischi cyber vengono ridotti dall'utilizzo di soluzioni tecnologiche o servizi come quelli che F-Secure può offrire, sia in termini di education e sia in termini di protezione specifica, per esempio dei device che vengono utilizzati dal cliente per la sua attività online. Qui abbiamo un elenco di alcune delle nostre soluzioni che possono proteggere appunto dagli specifici rischi cyber e che possono poi essere parte di un'offerta combinata tra l'assicurazione ed F-Secure, per ridurre appunto, con l'obiettivo di ridurre, l'esposizione al rischio dei vostri clienti. Recentemente abbiamo anche pensato che per facilitare l'esperienza degli utenti possa essere estremamente vantaggioso avere un'unica applicazione che possa proteggere la privacy, possa limitare il rischio di essere esposti a furto di dati, possa proteggerci durante qualunque attività online che vada dalle attività che possiamo svolgere nel nostro account online, account bancario online, allo shopping online, eccetera. Tutto questo anche attraverso l'utilizzo di un password manager che può aiutare i clienti ad accedere in maniera più sicura alle proprie applicazioni, è stato inserito in un'unica app, per cui questo facilita anche l'esperienza naturalmente degli utenti. Infine, qui vediamo tre esempi di possibili proposte da fare al mercato consumer, di offerta integrata, assicurazione con cyber security, che va da un semplice upsell, quindi a coloro che hanno già una protezione casa, che è l'ambito in cui normalmente vediamo la maggiore affinità con il mondo cyber, a una protezione più articolata, sempre in una logica di protezione casa, che preveda anche l'education, che preveda anche il supporto, quindi sono stato attaccato, mi hanno clonato il numero di carta di credito, cosa posso fare concretamente? Fino a un profilo premium, chiamiamolo premium, per specifiche figure all'interno della famiglia, magari il capo famiglia o la mamma hanno dei ruoli di rilievo anche all'interno di un'azienda, quindi devono stare anche maggiormente attente nella loro attività online. Detto questo, ci tengo a ringraziare a nome di F-Secure ancora una volta l'Italian Insurtech Association per averci invitato al Summit, Trovate qui tutti i miei riferimenti e vi prego di contattarmi per qualunque domanda e per capire insieme come la cyber security possa essere un elemento di differenziazione e di maggiori revenue per la vostra assicurazione. Grazie mille per l'attenzione e buona giornata.